Sopravvenute difficoltà fanno solitare l'inaugurazione delle tre nuove sale operatorie prevista per domani 5 gennaio. Così si legge in una nota dell'Astra Vezzano-Sumona-L'Aquila che annuncia un nuovo rinvio per il taglio del nastro delle tre nuove sale operatorie del nosocomio. L'inaugurazione era stata fissata a fine anno, il 31 dicembre 2015. Tutto saltò a causa del protrarsi dei lavori del Consiglio regionale impegnato in quelle ore ad approvare il bilancio. Ora, un nuovo rinvio. Nella nota l'Astra non specifica le motivazioni che hanno portato a prorogare l'inaugurazione delle sale operatorie, ma a quanto pare sembrerebbe che domani sia assente la ditta che ha eseguito i lavori. Per il taglio del nastro bisognerà ancora aspettare, prima di toccare con mano, quello che, secondo il sindaco di Sulmona, Peppino Ranalli, è un buon risultato per la tutela dell'intero presidio ospedaliero. Sempre per i primi mesi dell'anno si attende il trasferimento del punto nascita Peligno, che lo scorso 1 gennaio ha battuto il record della prima nascita del 2016 nell'Asla Vezzano sul Monal Aquila. È un maschietto, il primo nato, e si chiama Giovanni Capaldo. Per domani erano pronti a scaldare i motori anche i comitati cittadini per l'ambiente per chiedere certezze al governatore dell'Abruzzo, Luciano D'Alfonso, circa il no della regione, al metanodotto e alla centrale Snam. La posse della prima pietra sul cantiere del nuovo Nosocomio risale all'11 dicembre 2014, più di un anno fa. I lavori per la realizzazione della La Nuova cominciarono nel mese di luglio 2015. L'inaugurazione delle tre nuove sale operatorie è rinviata a data da destinarsi.